Pertanto, se interessati, vi aspettiamo questa sera alle 21 presso l'auditorium. Io non ho capito. Non abbiamo già fatto le selezioni. Quindi che facciamo? Torniamo indietro nel tempo e le rifacciamo? Ma quando fai queste domande? Sei serio o sei scemo? Sono Edu! Seguimi attentamente. Le selezioni le abbiamo superate. L'agente ci ha iscritto all'International Music Contest. Ora dobbiamo fare le audizioni. Se piacciamo ai giudici, iniziamo le sfide. È tutto chiaro? No. Vabbè. Come andiamo all'auditorium? In taxi? Ma no, intendo come usciamo da qui. Non possiamo uscire senza permesso firmato dai genitori. Siamo in trappola. Saffuto! Calma, calma, calma. Questo non è un problema. Ah no? E le telecamere allora? Ragazzi, il regolamento parla chiaro? Non possiamo uscire senza autorizzazione firmata dai genitori. E la lezione dell'attacker? Siamo in ritardo! Questa storia delle audizioni lo ha reso ancora più schizzato. Non solo lui. Uno. Ma che diavolo stai facendo? Due. Esercizi per la calma? Tre. Quattro. Perché devo presentarmi alle audizioni con questa banda di gente strana? Sei. Abbiamo finito? Potete iniziare a distribuire queste? Le voglio vedere sul petto di tutti. Magari non tutti le vogliono. Certo che sì. Vota Nausicaa. Io voto A2. Tu voti Nausicaa! Nausicaa! La candidata più cattiva della storia. Dove credete di andare? Ecco, noi dobbiamo fare una ricerca. Roba di moda, noiosissima. Maggie, non sei capace di mentire. Te l'ho detto. Abbiamo l'audizione per un contest musicale. Oh, mi dispiace. Non potete andare, assolutamente no. È vietato. Non potete uscire. Dovete essere accompagnati da un adulto. Mi dispiace. Io sono un adulto. Almeno così dicono. Andiamo. Ora dobbiamo spaccare. Moodboards, facciamo vedere chi siamo.